Radio Italia Cis, la radio che si vede. Il mondo ha bisogno di sentimenti. È questo lo slogan del concorso nazionale di poesia d'amore e di narrativa per l'infanzia che si tiene ogni anno a Renzino, nel comune di Foiano della Chiana. Un esempio semplice e concreto, grazie al quale chiunque abbia buona volontà può esprimere quei sentimenti che troppo spesso non riusciamo a comunicare inviando elaborati al comitato organizzativo. Opere a volte gelosamente custodite, la cui divulgazione è indispensabile per una crescita sia individuale sia all'interno della società in cui viviamo. Radio Italia 5 e Radio Italia 5 Web TV hanno seguito da vicino la serata della premiazione accompagnata dalla voce del direttore Guido Albucci che ha recitato alcuni dei componimenti in gara nella ventiduesima edizione di questa Kermess. Uno degli appuntamenti senza dubbio più importanti di Foiano della Chiana ormai sono 22 anni che esiste questo concorso della poesia proprio vera e propria in più da 22 anni, in più da 20 anni c'è anche la narrativa per l'infanzia quindi si sono accumulati questi due importanti concorsi stasera c'è la cerimonia e alcuni sono ormai personaggi noti a Foiano che da molti anni ci scrivono veri e propri poeti o veri e propri narratori e scrittori in più tutti gli anni si aggiungono delle nuove persone che vengono da tutta Italia quindi è un momento culturale importante per Foiano che è nel contenitore del carnevale di Foiano perché ancora siamo in clima carnevale qui a Foiano e quindi siamo molto soddisfatti di questo appuntamento un ringraziamento a tutto il circolo di Renzino che ogni anno si impegna in maniera molto importante e lavora per mesi a questo tipo di manifestazione e poi a tutti gli iscrittori e a tutti gli organizzatori. Siamo in compagnia della vincitrice del concorso che riguarda la narrativa per l'infanzia qual è il tema che ha affrontato nell'opera diciamo così che poi l'ha portata a questa vittoria qui del premio poetico e letterario qui di Renzino? Allora il racconto si intitola Lumen di stelle è un racconto che raccontavo ai miei bambini, ho quattro figli sono insegnante anche nella scuola media e so che i bambini hanno bisogno hanno bisogno di riscoprire la bellezza delle cose semplici per cui questo è un racconto proprio sulla bellezza delle cose semplici imparare di nuovo ad alzare gli occhi, guardare le stelle e gioire per la bellezza che ci danno, molto semplicemente. Come è arrivata a sapere di questo premio e soprattutto se è la prima volta che viene qua in Toscana? No, ormai sono di casa qui e ci torno sempre molto molto volentieri la prima volta l'ho scoperto forse su internet non mi ricordo neanche più, sono diversi anni appunto che partecipo e tornare è sempre proprio una grande gioia. Il Circolo Arci di Renzino è lieto come tutti gli anni ormai da più di vent'anni di organizzare questa importante manifestazione culturale sulle produzioni poetiche, sia sull'amore che sull'infanzia ecco, arrivati fino a qui, come ci può sintetizzare insomma questo percorso? Ma è un percorso che è iniziato un po' per scommessa perché diciamo un gruppo di amici hanno deciso di fare qualche cosa di insolito per un circolo che fino a quel momento era più ricreativo che culturale questa iniziativa sulla cultura è iniziata da prima con il concorso di poesia il tema è sempre stato l'amore, ormai siamo alla ventiduesima edizione dopo due anni, visto che qua a Foiano comunque c'è sempre stata una grossa tradizione di scuola per l'infanzia abbiamo deciso di inserire anche il concorso di narrativa per l'infanzia e questo diciamo quindi è quest'anno la ventesima edizione quindi sono ormai oltre vent'anni per tutte e due le manifestazioni che vanno avanti per noi è ovviamente un motivo di orgoglio perché una manifestazione che va avanti a volte vent'anni è sempre un bel risultato Entriamo nel vivo di come si è svolto il ventiduesimo concorso di poesia sull'amore e anche il ventesimo concorso di narrativa per l'infanzia qua di Renzino ecco come è andata quest'anno nella scelta anche dei vincitori quali sono state le tematiche affrontate? Le giurie hanno lavorato intensamente, si è trattato di un lavoro di qualità e chiaramente noi diciamo che seguiamo la segreteria ci occupiamo di gestire, di fornire il materiale che chiaramente arriva alle giurie in maniera assolutamente anonima per cui le giurie danno un giudizio veramente tecnico a volte anche veramente in maniera animata perché insomma poi questo lavoro li appassiona parecchio e poi si arriva alla fine di questo percorso e appunto solo dopo che hanno deciso quali sono le opere premiate quelle segnalate si arriva ad abbinare il nominativo del poeta o del scrittore che ha presentato il racconto di narrativa Sì, vi arrivano richieste insomma un po' da tutta Italia Sì, sì, da tutta Italia abbiamo anche non sono frequentissimi ma abbiamo anche persone, autori che scrivono in italiano che ci raggiungono anche dall'estero non per quest'anno ma in passato abbiamo avuto anche autori che chiaramente scrivono in italiano ma addirittura anche dal Canada figure che poi non hanno incontrato il favore delle giurie però hanno partecipato di buon grado insomma Come nasce la poesia che quest'anno ha vinto il premio di poesia sull'amore qui di Renzino? Ma è nata qualche anno fa diciamo un rapporto d'amore a tre una persona, un'altra persona e una malattia che ha sconvolto queste due persone scrivendo si riesce anche in qualche modo a attenuare un po' il dolore per questa cosa o per altre cose come tutti quelli che scrivono dà comunque un'emozione quindi in qualche modo riesce a posso dire a attenuare un po' la cosa Siamo insieme alla presentatrice della serata che forse ci può dire ancora qualcosa in più che già non abbiamo sentito insomma dagli organizzatori da tutto lo staff che si impegna anno dopo anno per la buona riuscita di questo evento ecco anche tu lo segui da molto tempo come quale emozione è insomma anche riuscire a portare cultura in maniera così semplice ma efficace Ma è l'emozione di vedere sul palco persone che riescono a coronare il sogno di una vita vedere le lacrime agli occhi quando si leggono le loro poesie oppure quando si leggono gli scritti perché si tratta appunto anche di narrativa per l'infanzia diciamo che se l'amore fa girare il mondo Renzino è la prova che il mondo gira Ecco quindi ovviamente qual è il tipo di narrativa o anche un esempio che ti è rimasto magari più nel cuore in questi anni Ma per quanto riguarda la narrativa dell'infanzia mi è piaciuto tantissimo il racconto che vinse diversi anni fa e che parlava di uno strano funerale di un personaggio in un paese ma trattato in maniera così divertente, così giocosa da rimanere impresso anche nella mente di un bambino che talvolta può essere invece diciamo così un po' colpita da certi eventi il modo in cui si raccontano le cose Per quanto riguarda le poesie d'amore diciamo che sono tutte molto belle ma nell'edizione scorsa ci fu una sezione dedicata ai giovani delle medie e delle superiori che si superarono dando prova di una grande grande sensibilità Grazie e soprattutto un saluto caloroso a Radio Italia 5 che dà questa bella possibilità Radio e TV Italia 5 di vedere questo evento e di avvicinarsi ancora di più alla narrativa e alla poesia Radio Italia 5 La radio che si vede